Benvenuti a Da Questo Pone News Il TG che vi dà solo buone notizie Allora dammene subito una Stasera sono libera Io no Diamo la linea ad Alessia Mancini A Z Pro Expert è a un prezzo pazzesco I dentifrici A Z nel multipacco 3 più 1 sono a soli 2,99 euro E con almeno 5 euro spesi in prodotti A Z e Aural B manuale In omaggio il dentifricio Aural B Calm E non perdere la linea Aural B elettrico Se compri uno spazzolino elettrico l'astuccio è il regalo Vorrei chiedere ad Alessia il segreto del suo look impeccabile A me no Prima ad Alessia Max Factor con i suoi fondotinta effetto antietà con acido ialluronico Radiant Lift che idrata, illumina e correggio in offerta a 12,90 euro In Miracle Tacce il fondotinta compatto in crema in promozione a 13,90 euro E solo d'acqua e sapone con Radiant Lift o Miracle Tacce il regalo è il pennello viso Max Factor E purtroppo per oggi le offerte sono finite Au revoir Parli francese, intrigante, sei ancora libera questa sera ma petite Cicalon Acqua e sapone, oltre la convenienza Grazie a tutti